Dopo anni di ricerche e studi, alcuni archeologi hanno ritrovato nella giungla del Guatemala la città maya di El Mirador, capitale nel 600 a.C. del leggendario regno di Cannes che i maya tramandarono nei loro miti. La città era quasi una metropoli per l'epoca, 100.000 abitanti e una superficie di 39 chilometri quadrati. Per i ricercatori, le tracce di questa città sono importanti perché testimoniano che l'origine della civiltà maya deve essere anticipata di un millennio rispetto a quanto pensato finora.